Nome. Matteo Zorzoli, relationship manager partner commerciali di Etica SGR. Roberta Di Pasquale, relationship manager partner commerciali di Etica SGR. Di cosa ci parli? Oggi vi presenterò Etica Bilanciato, il fondo comune di investimento per gestire in equilibrio rischi e opportunità. Io invece vi parlerò di Etica Impatto Clima, la soluzione di investimento per puntare un'economia a basso impatto di carbonio. Data di nascita? Etica Bilanciato, uno dei nostri fondi più longevi, è stato lanciato il 18 febbraio 2003. È sicuramente il fondo più conosciuto della gamma di Etica SGR e rispecchia al meglio la strategia sostenibile e responsabile e la politica di investimento della nostra società. Etica Impatto Clima è stato lanciato il 1 ottobre 2018. Il fondo costituisce al momento l'unica soluzione di investimento tematica nell'offerta dei fondi di Etica SGR ed è focalizzato sul tema ambientale pur sempre nel rispetto dei diritti umani. Etica Impatto Clima si caratterizza inoltre per essere ben diversificato a livello di asset class, di area geografica e di settore. Qual è la mission del fondo? Etica Bilanciato diversifica l'investimento ponderando le opportunità di rendimento dei mercati azionarie e quelle dei mercati obbligazionari, selezionando i titoli attraverso un'accurata analisi ambientale, sociale e di buon governo delle aziende e degli stati emittenti. Il fondo adotta dunque un approccio olistico al mondo degli investimenti ESG, senza prediligere alcuna dimensione specifica. Etica Impatto Clima diversifica l'investimento sfruttando le opportunità di rendimento dei mercati azionari e conservando al contempo una solida base obbligazionaria. Si tratta di una soluzione di investimento con una particolare attenzione agli aspetti legati al cambiamento climatico. Qual è l'investitore tipo? Etica Bilanciato è rivolta al risparmiatore che desidera investire puntando ad un incremento del valore del capitale nel rispetto dei principi di responsabilità sociale, ambientale e di buon governo aziendale. Etica Impatto Clima è rivolta a chi desidera investire responsabilmente puntando ad un incremento del capitale, con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti la transizione giusta verso un'economia a basso impatto di emissioni di gas climalteranti. Orizzonte temporale di investimento? Medio-lungo periodo, corrispondente almeno a 4-6 anni. Anche per Etica Impatto Clima l'orizzonte temporale di riferimento è di medio-lungo termine. Profilo di rischio e rendimento e benchmark? Il profilo di rischio e rendimento del Fondo Etica Bilanciato è stato classificato nella categoria 5, vale a dire medio-alto, sulla base di una scala di valori che va da 1 a 7. Il fondo è attivo contro benchmark, rappresentato al seguente mix di indici, 60% azionario globale, 35% obbligazionario governativo area euro, 5% monetario area euro. Il profilo di rischio e rendimento del Fondo Etica Impatto Clima è stato classificato nella categoria 4, vale a dire medio, sempre su una scala di valori che va da 1 a 7. Il fondo è attivo contro benchmark, rappresentato dal seguente mix di indici, 50% azionario globale, 30% obbligazionario governativo area euro, 20% monetario area euro. La selezione dei titoli in cui investono i fondi gestiti da Etica Sgr si basa su una metodologia proprietaria e il processo coinvolge anche un comitato etico indipendente. Quali sono le principali caratteristiche di questa selezione? La selezione degli emittenti societari avviene attraverso un processo che integra criteri di valutazione negativi e positivi. Con riferimento alla selezione negativa, sono esclusi settori e attività controversi come armamenti, energia nucleare, gioco d'azzardo, tabacco, test sugli animali ed altri. La selezione positiva delle aziende è volta a individuare le società migliori da un punto di vista ISG attraverso l'utilizzo di oltre 100 criteri positivi di valutazione. A livello di emittenti governativi sono esclusi i paesi che prevedono la pena di morte o considerati non o parzialmente liberi. Anche la selezione degli emittenti societari di Etica Impatto Clima prevede l'esclusione di settori e attività controversi, che possono anche essere diversi da quelli di Etica Bilanciato. Un esempio? L'utilizzo e il possesso di combustibili fossili, sabbie bituminose e olio di scisto. I criteri di valutazione positivi si concentrano invece esclusivamente sulla componente ambientale, anche attraverso l'utilizzo di indicatori di impatto, fattori di transizione low carbon e il monitoraggio del rischio reputazionale. A livello di stati, i criteri di esclusione non cambiano. Cosa dire del portafoglio azionario dei fondi? Etica Bilanciato può investire in azioni fino a un massimo del 70% del fondo. Il portafoglio azionario è diversificato a livello globale, principalmente negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, e a livello settoriale. Anche il portafoglio azionario di Etica Impatto Clima è diversificato a livello globale e settoriale, ma a differenza di Etica Bilanciato, l'esposizione azionaria massima è pari al 60% del fondo. Inoltre, l'universo investibile del fondo è diverso per effetto del focus sulla dimensione ambientale. E di quello obbligazionario? Etica Bilanciato investe in obbligazioni governative e di organismi sovranazionali appartenenti all'area euro. Il fondo può anche investire in obbligazioni societarie, fino a un massimo del 10% del portafoglio, emesse prevalentemente da aziende dell'area euro. Rispetto a Etica Bilanciato, il portafoglio obbligazionario di Etica Impatto Clima si caratterizza per una maggiore diversificazione a livello di emittenti. Il fondo può infatti investire in emittenti sovrani, organismi sovranazionali, obbligazioni societarie e green bot, senza particolari limiti. Con riferimento all'area geografica, la componente obbligazionaria si rivolge prevalentemente all'area euro. Come vi comportate per quanto riguarda i titoli del settore finanziario? Nel portafoglio di investimento del fondo Etica Bilanciato sono sospesi gli investimenti in emittenti del settore finanziario, banche, assicurazioni e società di pagamento. Il portafoglio obbligazionario di Etica Impatto Clima può investire anche in green bot, emessi da società del settore finanziario, purché servono per supportare progetti ambientali di interesse comprovato, con idonea certificazione. Gli emittenti finanziari non devono però essere coinvolti in pratiche negative o controverse. Cosa vorresti dire a Etica Impatto Clima? Sei giovane ma ci hai già dimostrato quanto vari, bocca al lupo. Cosa vorresti dire a Etica Bilanciato? Con la tua storia c'è ormai un punto di riferimento tra i fondi di Etica SGR, continua così. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell'adesione leggere il kid e il prospetto informativo disponibili presso i collocatori e sul sito www.eticasgr.com